Secondo i dati dell'Istituto Regionale di Programmazione Economica Toscana, la produzione in Toscana resta 5 punti sotto il livello di aprile di due anni fa, tessile e abbigliamento addirittura del 26%, il PIL cresce ma solo del 3% mentre la media italiana è superiore 3,7%. In questo quadro peserebbe la situazione della provincia di Arezzo che durante il Covid avrebbe accusato il colpo più di altre realtà. I dati dell'IRPET vanno letti con riferimento al settore soprattutto del turismo, Arezzo come città d'arte ha sofferto notevolmente il periodo della chiusura, del lockdown, della ripartenza comunque con tutte le difficoltà dovute anche al fatto che purtroppo ancora oggi abbiamo una vaccinazione non completa e stiamo assistendo a una potenziale quarta ondata, quindi vanno contestualizzati con riferimento a questi settori. Altri settori del comparto economico aretino invece hanno avuto una sostanziale tenuta e anche una crescita direi. Dal punto di vista occupazionale sapete tutti che la situazione è legata soprattutto al blocco dei licenziamenti e al permanere della cassa integrazione e soprattutto per quanto riguarda il distretto del tessile e dell'abbigliamento dove comunque questo blocco permarrà fino a ottobre, per cui direi che c'è una sostanziale tenuta. Rispetto ai dati IRPET mi sento di dire comunque che siamo moderatamente ottimisti, sempre compatibilmente con l'andamento della situazione pandemica. Ma che cosa succederà quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti e soprattutto gli ammortizzatori sociali non saranno più così consistenti? Ci auspichiamo che presto arrivino finalmente questi finanziamenti dei progetti del recovery plan e che soprattutto si riesca ad avere una riapertura dei mercati perché comunque le nostre componenti sia per quanto riguarda ovviamente la moda ma anche e soprattutto per il settore orafo registrano che i fatturati ordinativi sono in crescita, per cui siamo moderatamente ottimisti. Ecco, per quello che riguarda invece il rapporto Excelsior? Dunque, sono previsti dati positivi sul fabbisogno occupazionale e le assunzioni delle imprese. A luglio 2300, 1000 verranno dal settore dell'industria e 1300 dal settore dei servizi e da luglio a settembre sono in previsione oltre 6.000 assunzioni. Questi sono dati che comunque sono incoraggianti ma vanno ovviamente contestualizzati con il momento. Il settore principale sarà ovviamente il settore dei servizi ma anche il manifatturiero che in questo momento sta ripartendo e dando anche buoni risultati.